Un'altra serata di grande tifo, in esclusiva Rai. Dopo il pareggio con la nazionale turca, Destro! Alto! Gli azzurri di Spalletti incontrano la Bosnia nell'ultimo importante test, prima della partenza per la Germania. Il colpo di testa e il palo! Italia-Bosnia ed Erzegovic, questa sera alle 20.35, su Rai 1.